Lui con il suo enorme potere della psicometria ha capito tutto. È fortissimo. Quando uno è fortissimo. I mazzepex ci sono perché non possono esserci qua, dico io. Merda, ho schivato la macchina per un min... I poteri biotici. Manca solo questo, darò, eh. Eeeh, a mele! Cazzo. I veri uomini. 16, 17, 13, 11. Ma farei il giro del cazzo. No, qua è aperto. Ci sono allontanati. Eh, non so se è questo. Allontanati per la prima. No, ok, allora togliamo di qua. Andatemi un munguus, qualcosa. Ah, no, ma probabilmente dobbiamo comunque fare il giro perché ci arriviamo dall'altra parte, non da qua. Eh, sto visto, sono già a metà strada. Vedi, io provo a vedere di qua. Una motoretta. Una vespa. Ah, sì, ma a metà zero metri cerca. Questa è un lanciarazzi. Eh, bene. Bravissimo, ninja. Ma bravissimo. Diciamo che entro certi limiti. Allora, dobbiamo trovare qualcosa. Tocca, 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 qui, tocca, tocca, là. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, manca! a cura Il collega è pronto. un po' di strada da fare che cazzo ha lanciato incendiaria è piatta che la vedo hai 4 libri di granate hai umana stand rip e tutto questo per la fammi avere il suo pop Poi? No! Oh, quanta gente? Ah si, stava parlando io Ah, coglione Sono un uomo vuoto adesso Inizio, ora! Neanche il nome si ricorda appena, stronza Inizio, e resta quieto C'è mai una valora C'è un luogo a la parte del bambino, che si riuscì la tutta la tutta C'è l'intervento? E' la superintendente, l'aiutente che riempia ogni sistema in la città La missione, la missione, è di assicurare la data di superintendente Problem è, c'è solo un po' in da qui, in tra l'intervento C'è stato il suicidio per andare solo E' spero di più backup Ma credo che sei la cosa Sei solo, da cui ci riuscì? Lavorando sulla superficie? Ma se che hai spento la nonna scendendo nella tua poda Musi sapere il tuo strumento Vedami Ah, niente Oh no! Oh no! Oh no! Eh 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 Da noi c'è un lancio di granata infinito Sembra il perk con il driver Della armatura La cosa? Rienforcment Normal Eh, fanculo. Faccio granate qui. Perché così faccio la pistoletta, wow. Sì, almeno con il fatto che possano scurire il vetro del remetto, ho trovato un modo comodo di far vedere la faccia delle persone, senza dovere. C'è stato più caldo. Dobbiamo essere proprio sotto la Hive. Andiamo all'arrivo, vediamo se possiamo trovare un modo in alto. Adesso sta bene di qua, proprio. Abbiamo lasciato pure giù, signora. Andiamo all'arrivo. 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 No Non appasso gli odio No Non è buffa No Non è buffa Non sarà lungo prima che si riusciranno la porta Lasciamo fuori ora Apriamo questa porta È un bruttifo È un bruttifo È un ingegnero È un ingegnero Non so Io ero andato più avanti Adesso l'ho bloccato con il chief qua Bravo Non so Io ero andato più avanti Adesso l'ho bloccato con il chief qua Bravo Oh perfetto Musiamo entrare Oh No 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 Quindi no 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 Fa cagare. Hai visto che il brutto diceva traditore? Tra l'altro. Prima di entrare. Stanno cercando questi ingegneri e vogliono ammazzare anche loro. Sì. Damn! Buggers must have raised the alarm. Buck! Veronica? Where the hell are you? Data center, but we're coming out. We? No time to explain, but do not, I repeat, do not shoot anything pink. Whatever you say, just come on! Those brutes are here for the engineer. They'll kill it if they get the chance. You, stay behind me, ok? It's horrible. Eh, ehm, però... Where are you? Oh, Adam? The engineer still has shielded, but we won't last long in a firefight. We won't last long in a fight. Take Blank and clear the path to Buck. Phantom! Go, trooper. I'll cover the engineer. We're going there. Come on. We're going there. We're going there. We're going there. Boom. This is our exit, rookie. Go through the door. . Nerva . 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 Aspetta, senti libero di rimanere sempre in qualsiasi Non ora, Bop Come, head up! Come, vai! Buon lavoro! sovrintendente quindi siccome è inglobato i dati e si lo chiama così anche lui ma voglio I am them stone la porta è fermata non ti preoccupi abbiamo una chiamata buona combina dai dai vergi apri ok io vedo centri di queste cose oggi perché questo è così importante? questo ingegnero sa cosa è dopo il Covenante se potessi capire più di loro se potessi capire più di loro ciò che conoscono potrebbe vincere la guerra oh non ti mati nessuno di loro, hai? non ma magari uno o due buon lavoro come ho dovuto sapere? come ho dovuto sapere? dai ma cazza dai ma cazza buon lavoro come ho